con solo un fondo e una striscia di colore viola immagine illustrativa del prodotto centralmente modello sinistra mentre nella parte alta di destra troviamo un adesivo che ci ricorda l'adozione di switch meccanici low profile CRMX in questo caso troviamo dei red nel retro confezione troviamo ulteriori immagini illustrativa del prodotto con le principali caratteristiche intorno ad esso e altre nella parte di destra all'interno della confezione troveremo un classico manuale di istruzioni di poche pagine un estrattore caps classico delle tastiere da gaming di Cooler Master presente in ogni confezione per rimuovere i caps eventualmente per sostituirli con altri oppure pulire meglio la tastiera un cavo e sito in treccia di tessuto con connettori placati oro da un'estremità classico USB con un inserto di colore viola e dall'altro un Type-C come possiamo vedere è un cavo rimuovibile quindi la tastiera sarà completamente trasportabile eventualmente a qualche lamparti da qualche amico insomma altamente utilizzabile nei più svariati modi a seguire troviamo una sacca in tessuto per riporre la tastiera durante il trasporto ed infine troviamo la tastiera stessa, la Cooler Master SK650 partendo dal design abbiamo anche in questo caso un design molto elegante grazie a una colorazione total black per quanto riguarda i caps su uno sfondo grigio scuro dato dal plate in alluminio il layout di digitazione italiano come possiamo osservare nella parte superiore ai tasti funzione abbiamo i tasti a doppia funzione attivabili sempre tramite il tasto FN caratterizzato dal logo Cooler Master Gaming Experience i tasti F2 e F4 come possiamo osservare ci permetteranno di personalizzare su nove livelli il colore base quindi rosso, verde e blu il tasto F1 per variare i vari effetti e colori disponibili non abbiamo dei tasti indicativi per quanto riguarda i profili che sono sempre 4 nelle tastiere da gaming di Cooler Master ma sono relativi tasti 1, 2, 3, 4 attivabili in combinazione col tasto FN a seguire abbiamo altri tasti che ci permetteranno di personalizzare la tastiera per quanto riguarda la terminazione di effetti e di colori abbiamo dei tasti multimediali presenti al di sopra delle freccette direzionali freccette direzionali che ci permetteranno di modificare la velocità degli effetti presenti sulla tastiera oppure il verso degli stessi dove l'effetto lo permetterà è una tastiera davvero molto sottile come possiamo osservare possiamo osservare anche meglio la finitura in alluminio spazzolato presente nel pletto superiore in alluminio abbiamo anche la possibilità di ricordare o cancellare le macro on the fly o eventualmente passare tramite il software di gestione Cooler Master Portal ormai ampiamente conosciuto qualche altro piccolo dettivo possiamo vedere questo bordo ben rifinito con un effetto quasi a specchio la parte superiore troviamo il connettore USB Type-C girando la tastiera possiamo invece osservare una classica superficie dello chassis in plastica abbastanza rugosa non troviamo alcuna canalina in quanto il cavo non è integrato nella tastiera ma è removibile quindi posizionabile come abbiamo visto nella parte superiore non troviamo nemmeno dei piedini in plastica apribili ma troviamo solo 4 piedini classici in gomma quindi la tastiera non è per quanto riguarda l'altezza configurabile quindi il comfort di rigidazione potrebbe venire meno a seconda ovviamente della persona e del tipo di utilizzo che ne fa della tastiera vi mostriamo anche velocemente i Caps che sono classici con impronta passateci il termine CRMX e gli switch meccanici low profile CRMX come possiamo vedere sono prettamente identici per il 90% ai classici CRMX o ai classici switch meccanici in altezza standard e questi garantiranno un diverso feedback rispetto ai classici ovviamente vedremo meglio durante le nostre prove di questa tastiera e vi riporteremo tutto sulla nostra recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com con questo è davvero tutto vi rimandiamo dunque alla recensione sempre sul nostro sito www.eximardware.com e ad un prossimo unboxing un saluto allo staff